Michele, in occasione della Milano Design Week presenti per Antraxit delle nuove tendenze colori. Come è nata l'ispirazione? Allora, l'ispirazione è nata da uno studio, da uno studio di tendenze per andare poi a definire degli scenari di come il progetto si sta sviluppando nella sfera contemporanea. Victor, ciao, benvenuto su Pianeta Design. Volevamo chiederti come hai immaginato l'interior design dello showroom e soprattutto che evoluzione avrà. Ora, il progetto è nato in un periodo abbastanza difficile per tutti noi, era proprio in pieno dell'emergenza Covid ed è stata una bella sfida sia per me che per l'azienda, era diciamo un salto di fiducia nel futuro.